Abbiamo passato qui la notte. Dove avresti dormito se non ci fosse stata la casa? Nell'ex manicomio. Quindi all'aperto? Sì, sì. Diciamo che è una struttura giusta, però bene o male fa freddo. Perché è tutta spinestrata? Sì. Quindi trovare qui alloggio perché è stato... È stata una manna dal cielo. Grande gelo, la chiesa si mobilita per i più poveri e per i meno abbienti. La Caritas di Aversa apre le porte ai senza tetto e ai bisognosi compasti caldi e tanta accoglienza. E questa notte oltre all'emergenza di accoglienza per i senza fissa timora è stato anche un concorso di solidarietà da parte di più persone che hanno reso presente la loro attenzione soprattutto attraverso anche un tè caldo, la colazione portata qui nella mensa dei poveri. Dico anche così un invito a tutti, ecco davvero anche da questa esperienza cerchiamo di ricavare un'attenzione migliore alla vita di tutti coloro che abbiamo accanto. Se da un lato c'è la gioia e l'ilarità non bisogna però dimenticare che ha più bisogno e vive queste giornate con immensa difficoltà. Grazie. Grazie.